Musica Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina politica. Tutti a lavoro nelle varie coalizioni e partiti in vista delle elezioni regionali. In attesa di sapere quando si andrà alle urne si parla di nomi. Nel Movimento 5 Stelle, nelle regionarie ballottaggio fra Cipolletti e Marcozzi. Nel centrodestra ancora Beghe tra Lega e Forza Italia dopo Bellachioma e Di Stefano. Infatti si candida ufficialmente anche Umberto Di Primio. Nel centrosinistra invece si aspetta la decisione ufficiale del vicepresidente uscente del CSM Giovanni Legnini. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti e poi l'editoriale del direttore Manuela Petescia. Resta ancora un mistero la data delle elezioni regionali che secondo i rumors potrebbe essere prossima al Natale se non addirittura slittare i primi mesi del 2019. Nonostante la nebbia che avvolge il giorno del voto, gli unici al momento a giocare a carte scoperte sono i grillini. Ieri infatti si è votato online per le regionarie bis dopo il flop del primo tentativo. La prossima settimana sarà ballottaggio tra Sara Marcozzi e Marco Cipolletti, attivista teramano del Movimento. Proprio l'attuale consigliera regionale sottolinea come non ci siano spaccature nel Movimento che ha risposto con grande partecipazione. Fatemi dire che sono molto contenta di questo risultato sia per la partecipazione degli iscritti abruzzesi sia per il fatto che c'è stata una riconferma di una squadra che funziona, non è soltanto chi ha primeggiato ma è di fatto una riconferma di una squadra composta da me, Domenico Pettinari, Pietro Smargiassi e tutti i nuovi candidati consiglieri che ne entreranno a far parte. Fiduciosa per il secondo turno? Assolutamente sì, siamo molto fiduciosi, siamo già al lavoro, abbiamo dedicato gli ultimi 5 anni delle nostre vite a portare il Movimento 5 Stelle al governo di questa regione. Nelle centrosinistra invece si attende solo l'ufficializzazione della candidatura a governatore dell'ex vicepresidente del CSM Giovanni Legnini a meno di clamorosi ribaltoni dovrebbe essere lui la figura di alto profilo sotto la quale raccogliere tutte le forze di centrosinistra dopo l'era d'Alfonso e le divisioni dell'ultimo periodo. Situazione magmatica invece nel centrodestra dove la Lega spinge per una candidatura alla presidenza in virtù della posizione di governo e del gradimento popolare che emerge dai sondaggi. Lega che domani sarà in piazza all'Aquila per chiedere il voto immediato. L'unità del centrodestra quindi sembra ancora in discussione anche se da Forza Italia auspicano una candidatura unitaria. Il coordinatore Nazario Pagano mi ha raccontato di un clima che si è disteso e si è rasserenato rispetto alle ultime settimane e noi continuiamo a credere nel valore dell'unità del centrodestra, continuiamo a pensare che l'alleanza di governo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle sia un incidente di percorso, un mare necessario. Non crediamo che si sia trasformata in un'infatuazione che sia scoppiata addirittura una storia d'amore e ci auguriamo che anche Salvini la pensi come noi, che anche gli amici della Lega la pensino come noi e che non vogliono privare questo territorio della possibilità di mettere in piedi un modello di buon governo fondato sulla capacità di chi amministra di essere concreto ed efficiente. Tutto ruota attorno ai nomi in una partita a scacchi giocata sulla tenuta del sistema nervoso dei partiti infatti sono tanti nomi in ballo per una candidatura nel centrodestra dal coordinatore leghista Bellachioma al forzista di Stefano gradito alle civiche di Toto e Zelli fino al sindaco di Chieti Umberto Di Primio che è pronto a dimettersi solo in caso di una investitura per Palazzo Centi. Chi è buono per tutte le stagioni, per ogni poltrona non è buono per fare l'amministratore io credo che qui ci voglia grande chiarezza io ho dato la mia disponibilità già da un anno ad essere candidato come Presidente della Regione se ci sarà la confluenza sul mio nome innanzitutto del mio partito unito e poi di tutto il centrodestra unito allora io sono pronto a fare non il Presidente della Regione ma a fare bene il Presidente della Regione se ciò non fosse io continuerò a fare il sindaco perché non ho bisogno di un'altra poltrona faccio bene, credo, quello che quotidianamente mi ha richiesto dai miei cittadini cioè dedicarmi alla mia città tutti i nomi sono validi, non dobbiamo fare una gradatoria dobbiamo scegliere il nome che mette insieme più soggetti possibili cioè il nome che ha la forza di dare ai cittadini la grande affidabilità di chi può amministrare e al mondo della politica e del civismo la forza di chi può tenere insieme tutte queste cose la decisione di optare per il Senato presa di recente lasciatecelo dire finalmente da Luciano D'Alfonso con cinque mesi di ritardo rispetto alle elezioni sgombera il campo da una situazione politica che si era fatta insostenibile e allo stesso tempo apre una riflessione sul potere in sé e sui doppi incarichi che non di rado e grazie a una serie di piccoli escamotage si riuniscono nelle mani di una sola persona l'argomentazione principale di D'Alfonso quella di non aver percepito il doppio compenso di presidente della regione Abruzzo e senatore della Repubblica Italiana è apparsa sin dall'inizio inconsistente e demagogica la retribuzione nel mondo della politica non è fatta solo di denaro, bonifici, emolumenti, conti in banca la retribuzione è nel potere nella carica stessa che si ricopre tanto più se quella carica sia rivestita in modo ingiusto in palese contrasto, se non giuridico, morale con la norma dettata senza possibilità di equivoco dall'articolo 122 della Costituzione nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle camere del Parlamento la retribuzione è nei vantaggi conservati nel diritto di incidere sulla data delle elezioni con il centro-sinistra che vorrebbe ritardare quanto più possibile quella tornata magari fino alla prossima primavera la retribuzione è nell'aver modo di preparare il terreno da una posizione di vantaggio perché da una posizione di vantaggio di quella portata a riunire in un'unica persona la carica di Presidente e quella di Senatore è possibile tessere accordi e alleanze strategiche dirigere team qualificati di persone disporre di risorse umane e materiali su vasta scala piegare un imponente apparato burocratico e organizzativo ad esigenze politiche insomma il potere è esso stesso una retribuzione Andiamo avanti con la politica il deputato abruzzese Camillo D'Alessandro ha illustrato l'emendamento che presenterà la Camera dei Deputati contro la sospensione dei fondi del bando per le periferie indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri due anni fa dure critiche dal parlamentare al silenzio di Movimento 5 Stelle e Centrodestra sentiamo I cittadini si aspettavano un governo del cambiamento hanno trovato un governo della rapina hanno rapinato fondi già stanziati dai governi Renzi e Gentiloni a favore di 96 città in Italia tra cui Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo per Pescara parliamo di 18 milioni di euro che sarebbero intervenute nei luoghi di maggiore disagio della città come i progetti messi in campo dall'amministrazione comunale tutti cancellati con un emendamento noi alla Camera abbiamo presentato io e la collega Pezzopane solo il gruppo del Partito Democratico e su questo vorrò anche dire gli emendamenti per abrogare la norma non solo la norma che cancella i fondi in Italia ma anche per ripristinare i singoli interventi quindi c'è un emendamento che oggi presentiamo su Chieti un emendamento su Pescara un emendamento su Teramo un emendamento sull'Aquila parliamo di circa 60 milioni complessivi di cui 18 solo nel comune di Pescara se l'emendamento che si discuterà in commissione bilancio lunedì sarà bocciato non lo ripresenteremo puntualmente alla Camera a meno che il governo decida di mettere la fiducia a quel punto decadono tutti gli emendamenti faremo chiaramente battaglie io martedì prenderò la parola a nome del gruppo nella discussione generale difenderò le prerogative della nostra regione il problema è l'imbarazzante silenzio del Movimento 5 Stelle e della Lega in Abruzzo la complicità invece a Roma ma permettetemi di dire anche Forza Italia Forza Italia non parla in Abruzzo Fratelli d'Italia non parla in Abruzzo nonostante hanno un sindaco Fratelli d'Italia all'Aquila Forza Italia a Chieti che sono stati anche loro scippati dei loro fondi non parlano in ragione di una possibile alleanza con la Lega cioè si vendono l'Abruzzo per tentare di vincere l'elezione regionale è una cosa drammatica ma è accaduta che non c'entra nulla con la dignità della politica adesso due notizie di cronaca la prima arriva dall'Aquila un 74enne responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie lesioni personali aggravate tentato omicidio nei confronti del figlio è stato allontanato dalla casa familiare la misura è stata eseguita ieri dalla polizia di Sulmona e si è resa necessaria dopo la segnalazione di una violenta lite all'interno di un condominio tronuomo la moglie e il figlio maggiorenne nel pomeriggio dello stesso giorno inoltre la sala operativa del commissariato aveva ricevuto la notizia che nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Sulmona era stato ricoverato un giovane con ferite da arma da taglio su una mano il personale della polizia che è intervenuto per acquisire informazioni è venuto a conoscenza che si trattava proprio del figlio del 74enne andiamo a pescare adesso sventato dai carabinieri un possibile assalto al portavalori da parte di una banda di malviventi durante un controllo normale hanno rinvenuto quattro mezzi parcheggiati privi di targhe parzialmente coperto da teloni due Fiat Punto nascoste dietro un mezzo da lavoro e un fuoristrada e due furgoni Fiat Ducato parzialmente coperti da due pesanti teli in nylon il tutto nel quartiere Colli entrambi i mezzi presentavano modifiche alla carrozzeria tali da renderli identici a furgoni portavalori con interventi sui portelloni laterali dove erano state ricavate due feritoie alle portiere dell'abitacolo e al parabrezze anteriore in modo da conferire una apparente blindatura i quattro veicoli che risultano essere stati rubati a Pescara nel maggio scorso sono stati sequestrati e sono tuttora sotto accertamenti tecnici dopo gli accertamenti e le perquisizioni domiciliari i carabinieri hanno denunciato per ricettazione in concorso un 39enne e un 45enne entrambi pescaresi in quanto uno è risultato essere colui che aveva affittato gli stalli dove erano collocati i mezzi e l'altro perché era titolare del garage adesso andiamo avanti con il nostro giornale andiamo a Chieti la giunta di primio ha riconsegnato ufficialmente agli studenti il plesso della scuola primaria di via Bosio nella zona del villaggio Celtit dopo gli interventi di bonifica dell'amianto effettuati dall'amministrazione comunale vediamo il servizio tutto pronto per l'inizio del nuovo anno scolastico tutto pronto nella scuola primaria di via Le Bosio dove oggi riconsegnate ufficialmente il plesso dopo i lavori oggi è una giornata assolutamente importante per via Bosio perché nonostante voglio dire le difficoltà che abbiamo attraversato che attraversiamo a livello economico e l'altra parte di tutti i comuni siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo che ce l'avevamo prefissi già dall'anno scorso ed oggi finalmente riusciamo in qualche modo a tornare a questa scuola come dire con i lavori già fatti per cui lunedì tutti pronti per quanto riguarda il discorso dei servizi da erogare siamo pronti mi riferisco alla menza per chi l'ha chiesta dal primo giorno l'assistenza scolastica specialistica al pre post scuola al trasporto dei bambini che hanno delle difficoltà invece stiamo lavorando perché riparta senza particolare difficoltà il trasporto per i bambini ad ottobre ci stiamo lavorando perché ci sono un po' di difficoltà però devo dire che sono assolutamente fiducioso sul lavoro che stiamo portando avanti sono state le denunce le denunce da parte di genitori giustamente preoccupati per quelle che sarebbe potuto essere la presenza di Ramianto nel vecchio pavimento in gomma perché era un pavimento antecedente al 1992 e dall'analisi fatta effettivamente poi il risultato che c'era Ramianto tutto l'edificio scolastico è stato rifatto con la sostituzione totale della pavimentazione in più si sono adottati criteri di ritinteggiatura noi abbiamo impegnato 137 mila euro per bonificare tutta la scuola che sono circa 500 metri quadri il lavoro è stato fatto per intero non ci fermiamo qui subito dopo l'inizio scolastico metteremo a posto anche il tetto con l'infiltrazione che ci siamo perché abbiamo trovato dei residui di somma e possiamo fare anche questo lavoro non intraccerà assolutamente la contusione dell'attività scolastica andiamo ad Avezzano adesso una nuova fontana al centro di piazza Risorgimento dona un nuovo look al centro città ieri sera l'inaugurazione seguita da tantissimi cittadini vediamo il servizio il comune raggiunta il comune di Avezzano delibera di conferire allo scultore Assempekov l'incarico della progettazione di una fontana monumentale in piazza Risorgimento il ricordo della delibera di giunta del 1953 firmata dall'allora sindaco onorevole Angelo Tirabassi ha aperto il saluto del primo cittadino di Avezzano Gabriele De Angelis in occasione della cerimonia inaugurale della nuova fontana di piazza Risorgimento in politica ha commentato De Angelis il tempo è nemico degli amministratori e quell'idea bellissima si era renata ora determinazione ed efficacia sempre secondo quanto dichiarato dal sindaco hanno consentito la realizzazione di un progetto che cambia il volto della città dopo 64 anni questo fa parte del primo intervento della riqualificazione del centro città era nel nostro programma di mandato partire da qui da piazza Risorgimento poi abbiamo tra due settimane l'inaugurazione di piazza Torlonia e il bando aperto in scadenza il 14 ottobre per l'aggiudicazione di piazza del mercato erano i tre interventi centrali che sono importanti per cambiare in maniera sostanziale il volto della città successivamente con l'anno nuovo passeremo poi come da nostro cronoprogramma a intervenire sulle periferie e le frazioni quindi c'è una visione d'insieme che è organica che ci porterà nell'arco di cinque anni a cambiare in maniera importante a mio avviso il volto di Avezzano piazza Risorgimento gremita di cittadini che hanno potuto assistere al taglio del nastro al concerto del Chimer Ensemble e alla spiegazione dei dettagli tecnici sui lavori eseguiti da parte dell'architetto ingegnere Giancarlo Cardone presenti all'inaugurazione le autorità civili militari e religiose il vescovo Pietro Santoro i consiglieri regionali Emilio Iampieri e Gianluca Ranieri i parlamentari Nazario Pagano e Antonio Martino il presidente della fondazione Carispac Marco Fanfani che il sindaco ha ringraziato per il finanziamento che ha reso possibile questa importante riqualificazione e la vicepresidente della Camera onorevole Mara Carfagna Casa Artigiani Abruzzo plaude alla iniziativa della regione che ha appena istituito un albo regionale delle microattività domestiche alimentari il provvedimento mira a tutelare consumatori e offre facilitazioni fiscali importanti a queste aziende che si stima siano almeno 5.000 attive sul territorio sentiamo il servizio di Tania Bondici Castelli Casa Artigiani Abruzzo ha partecipato attivamente al tavolo tecnico regionale che ha portato all'approvazione di un'importante regolamentazione del MDA acronimo per microattività domestiche alimentari il provvedimento mira a normare il settore delle aziende che lavorano attraverso la conoscenza e la diffusione delle ricette tradizionali dei prodotti tipici abruzzesi ed istituisce il relativo albo regionale per tutelare al meglio il consumatore cosa sono in concreto le MDA le piccole e micro imprese domestiche alimentari sono praticamente le persone che nell'ambito della propria abitazione svolgono una piccola attività lavorativa nel settore alimentare quindi una piccola attività di ristorazione una piccola attività di produzione di confetture o altre cose similari con questo regolamento che vantaggi avranno? possono svolgere questa attività naturalmente a livello non continuativo a livello saltuario senza una iscrizione alla Camera di Commercio senza una partita IVA e senza quindi il contributo previdenziale da pagare ma con una semplice iscrizione in un albo regionale preceduta da una comunicazione al comune di competenza quindi questa è una grande facilità e questa facilità cosa porterà poi nel tessuto economico? noi di Casa Artigiani abbiamo appoggiato questo provenimento perché appunto riteniamo che possa essere anche una possibilità di fare per un po' di tempo questa attività non in modo continuativo per avere un buon successo c'è un limite massimo di reddito di 5.000 euro oltre il quale poi si può fare un'attività tranquillamente di impresa organizzata quindi entrare in un mercato più ufficiale quindi la regione approva ma anche soddisfazione da Casa Artigiani che ha partecipato al tavolo tecnico sì insieme all'assessore Rolli al dottor Bucciarelli abbiamo partecipato e siamo orgogliosi di aver messo su questo provenimento in quanto anche la regione Abruzzo è la terza regione che in Italia ha disciplinato la normativa in Abruzzo si stima ci siano 5.000 aziende che svolgono microattività domestiche alimentari la regione la regione ha dunque ritenuto necessario normare il settore siamo sempre in tema di lavoro sindacati azienda hanno chiuso l'intesa per mettere nell'archivio la vertenza Blutec i cui lavoratori impiegati nell'indotto della Sevel nei giorni scorsi avevano scioperato preoccupati per il futuro del proprio posto di lavoro in un comunicato la FIOMCGL di Chieti giudica positivamente l'esito della trattativa che porterà all'assunzione a tempo indeterminato di 42 precari e al pagamento delle spettanze arretrate vantate dai lavoratori compreso il premio aziendale nell'intesa c'è anche la regolarizzazione dei contributi destinati alla previdenza complementare e alla sanità integrativa l'erogazione dei mini voucher a partire dal mese in corso e il riconoscimento ai lavoratori di CSA una controllata del gruppo Stola di tutti i diritti previsti per i colleghi in capo alla Blutec che terminano così tre giorni di sciopero che hanno causato anche il blocco della produzione nella Sevel nel turno delle 14 di ieri e andiamo avanti domani 8 di settembre nel chiostro della Madonna delle Grazie di Teramo andrà in scena l'ottava edizione di Note su Ali di Farfalla una serata di musica e solidarietà il ricordo di Federica e Serena due splendide ragazze terramane morte all'Aquila nel sisma del 2009 ad esibirsi alle ore 21 saranno Filippo Graziani e la cantautrice Cristina Donà vediamo il chiostro della Madonna delle Grazie a Teramo ospiterà la serata di musica e di solidarietà promossa dall'associazione Federica e Serena l'ottava edizione di Note su Ali di Farfalla a salire a salire sul palco saranno il cantautore e chitarrista Filippo Graziani che omaggerà la produzione musicale del padre Ivan e la cantautrice interprete Cristina Donà una delle voci più originali della scena musicale italiana Serena era volontaria dell'IPD Associazione Persone da Onde di Teramo e Federica era volontaria della Croce Bianca di Montorio proprio per portare avanti quindi quelli che sono stati da sempre i loro valori quindi l'altruismo l'attenzione sicuramente per gli altri abbiamo organizzato proprio dal 2009 questa manifestazione che si chiama Note su Ali di Farfalla notte per Federica e Serena si tratta di una manifestazione molto importante per noi perché ad oggi siamo arrivati all'ottava edizione abbiamo raggiunto veramente risultati importantissimi e tutti si sono concretizzati grazie ovviamente all'aiuto di tanti sostenitori e del pubblico che è stato sempre molto attento ha partecipato con grande attenzione a quello che è il senso proprio più profondo della serata il ricavato della serata di musica e solidarietà sarà destinato all'associazione Carrozzine Determinate Abruzzo per la realizzazione di un percorso pratico e empatico nelle scuole secondarie e nelle università il noleggio di carrozzine la stampa e la diffusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità tutte le edizioni ogni anno hanno come scopo quello di una devoluzione ad una realtà diciamo del territorio noi ci facciamo sostanzialmente megafono di questa esigenza cioè di guardare qualcosa che spesso rimane anche nell'ombra ora a Lanciano dove andiamo a vedere le limitazioni in centro storico per il dono alla Madonna del Ponte vediamo tutto pronto per il dono alla Madonna del Ponte in programma sabato 8 con i festeggiamenti del settembre lancianese che entrano nel vivo con uno degli appuntamenti più cari e sentiti nel giorno dedicato alla festività di Maria le contrade della città sfileranno con i donativi soprattutto prodotti della terra a omaggio dei contadini alla santa patrona del popolo frentano un lungo corteo sfilerà lungo corso Trento e Trieste in abiti tradizionali rievocando scene di vita contadina e canti dedicati proprio a Maria per l'occasione l'assessorato alla mobilità ha disposto dettagliati provvedimenti per la disciplina della circolazione molto più serrati rispetto a quelli degli anni passati frutto della direttiva Gabrielli dopo i fatti di Torino e contenuti nell'ordinanza 230 del 5 settembre dalle 8 e 30 alle 12 dell'8 divieto di circolazione in piazza Plebiscito via dei Frentani corso Trento e Trieste via Dalmazia viale delle Rose viale Sant'Antonio corso Bandiera via Decrecchio con relative intersezioni il divieto di circolazione divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione dalle 14 alle 24 dell'8 settembre dal civico 62 al civico 68 riguarderà anche piazza Garibaldi l'assessore al traffico Francesca Caporale non si tratta di chiusure esagerate? assolutamente no sono chiusure quelle necessarie a poter far sì che la manifestazione avvenga quindi lungo tutto il tratto dove questa ci sarà quindi lungo il corso Trento e Trieste e Viale delle Rose ma anche sulle due strade parallele per permettere le vie di fuga quindi siccome ci sarà sicuramente una concentrazione molto alta di persone in caso di movimento queste avranno una naturale via di sfogo precauzioni che di volta in volta saranno adottate a seconda dell'evento in programma? a seconda dell'evento in programma e a seconda dell'area che verrà interessata quindi per le feste di settembre avremo un'area ulteriore da andare a interdire perché comunque come tutti quanti sappiamo le feste di settembre tutti quanti i locali mettono i tavolini in strada e ci sono anche la concomitanza della presenza delle giostre e quindi potremo vivere la nostra città a 360 gradi con delle misure protettive in più però che ricordiamo la sicurezza non va mai in deroga e quindi è necessario andare a tutelare tutti quanti e quindi mantenere queste sicurezze e questi presidi che ci sono stati oltretutto consigliati e imposti in qualche maniera dal commissariato e adesso lo sport è riunito da mezzogiorno a sezioni unite il collegio di garanzia del CONI presieduto dall'ex ministro Franco Frattini nelle prossime ore si attendono le pronunce dell'organo di giustizia sportiva del CONI che dovrà chiarire se regolare la procedura che ha portato la Serie B a 19 squadre in caso positivo il campionato cadetto proseguirebbe senza ripescaggi e con il calendario già diffuso in caso contrario invece la Serie B sarà riportata a 22 squadre e a quel punto si aprirebbe l'altro fronte sul quale il collegio di garanzia dovrà pronunciarsi cioè quello dei ripescaggi in Lizza ci sono Ternana Catania Novara Provercelli e Siena tutte società che hanno presentato ricorso ritenendo di avere diritto a ripescaggio spera anche la Virtus Centella le cui sorti sono legate a ricorso contro la precedente società del Cesena per il caso Plus Valenze e adesso andiamo in casa del Pescara sosta di campionato con qualche grattacapo sul fronte infortuni continuano a lavorare a parte Palazzi e Fiorillo terapie per Canutè per una infiammazione al ginocchio e per Crecco distorsione alla caviglia Balzano salterà la trasferta di Brescia nella gara con il Livorno il terzino ha rimediato una lesione distrattiva di primo grado all'adduttore breve ed ha iniziato il percorso di recupero sta bene invece Ugo Campagnaro che domenica è sceso in campo dal primo minuto ascoltiamolo è arrivata la vittoria con il Livorno la prima della stagione grazie soprattutto a due vecchietti del Pescara Cocco segnato una doppietta e Campagnaro che al novantatresimo è come se avesse segnato un gol quel salvataggio sulla linea è stato fondamentale ma sono cose che succedono dentro la partita però io sono contento per come è andata in generale al di là delle occasioni singolari però ha fatto bene la squadra secondo me come gruppo ha gestito bene anche il vantaggio al di là dei che hanno segnato hanno fatto un bel gol loro anche senza errori da parte nostra però a merito loro sono riusciti a segnare però abbiamo gestito molto bene la partita che l'anno scorso magari facevamo fatica quando eravamo in vantaggio a riuscire a portare a casa i punti quest'anno dovrebbe andare meglio siamo molto organizzati e niente bisogna continuare così ora stai bene hai fatto tutta la preparazione con i tuoi compagni ma ti aspettavi di giocare con il Livorno e quando hai saputo che saresti sceso in campo aspettarmi di giocare o meno sono stato disponibile anche la prima giornata che è quello che devo fare io devo essere a disposizione dell'allenatore poi se mi fa giocare o meno non è importante è importante che si facciano i punti come si stanno facendo delle belle prestazioni e niente immaginavo in settimana magari perché mi ha provato verso la fine con le squadre più o meno dei titolari però non avevo la conferma fino al mattino quando lui dà la formazione però niente ormai questa cosa qua non è importante per me quello che devo fare io è essere sempre disponibile e dare una mano firmeresti per giocare 25 partite in questa stagione se te lo chiedessero oggi ma 25 partite non è importante quante sicuramente un bel numero per avere 38 anni io devo dare una mano sempre anche quando non sono a disposizione per giocare però se riesco a fare 25 partite per me sarebbe un numero ottimo ma qual è l'obiettivo del pescare in questa stagione Ugo perché siete partiti a fari spenti si parla di salvezza però questa squadra è una squadra di valore che ha dei valori tecnici importanti sì ma al di là di quello quello che dichiari non è che se tu giochi per la salvezza dopo andrà a finire così tu fai il massimo ogni partita adesso abbiamo fatto un pareggio e una vittoria e niente dobbiamo giocare a vincere tutte le partite poi quello che si dice non è che quello ti limita a fare più punti nessuno te lo vieta se dopo tu vai e vinci giochi per altri obiettivi magari se cerca di tenere i piedi per terra e non fare tante aspettative però quello che dobbiamo fare noi è cercare di vincere tutte le partite l'ultima Ugo sarà questo l'ultimo campionato per te da giocatore? non lo so dipende come sono messo fisicamente se io vedo che mi posso gestire sono disponibili tante partite e non vedo perché non continuare adesso la Serie C con il Teramo ultima partita amichevole per il Diavolo prima dell'inizio del campionato ieri è finito con uno scialbo 0-0 il test contro il Pineto ora il Teramo aspetta il sorteggio del calendario di domani pomeriggio alle 18 a Roma per conoscere il primo avversario in campionato per il Pineto invece dopo domani match di Coppa al Fadini contro il Real Giulia Nova sentiamo il servizio di Andrea Costantini e poi le interviste di Ania Cantagalli il Teramo chiude il suo lungo precampionato con uno scialbo 0-0 al Bonolis contro il Pineto squadra attesa ad una nata importante nel campionato di Serie D gara che ha riservato poche emozioni ma che è stata utile al Teramo se non altro per rodare ulteriormente i meccanismi e dare minutaggio ai nuovi non c'è stata la giusta intensità per i biancorossi di Zichella la cui testa è già al debutto nel campionato nel prossimo fine settimana peraltro di contro il Teramo si è trovato un Pineto come sempre molto ordinato e quadrato all'inizio le novità principali sono state Fiordaliso centrale al fianco di Caidi Proietti Mezzala con Persi in regia Zecca nel Tridente con Piccioni e Bacio del Racino nel Pineto in campo i due ex Orlando e Mancini in tribuna tra gli altri anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ma è un primo tempo che va avanti tra gli sbadigli Zecca si fa notare con un affondo al 28esimo mentre al 33esimo Proietti viene sostituito in via precauzionale per un piccolo problema al Pube al suo posto De Grazia Nella ripresa sono sette le novità nel Diavolo tra cui Vitale fresco di firma sul contratto il neoportiere Pacini e l'attaccante Di Renzo tra i più positivi di questo precampionato terramano prima parte prima parte di ripresa un po' più vivace Vitale si fa notare prima con una conclusione poi con un salvataggio nella propria area di rigore su Tomassini a metà secondo tempo una delle migliori azioni della partita Di Renzo premia l'inserimento di De Grazia il diagonale dell'ex maceratese è respinto in bello stile da Fargione sul ribaltamento di fronte lavoro anche per Pacini che dice no a Villanova l'ultima azione degna di nota dal 75esimo ancora sull'asse Di Renzo De Grazia poi più nulla fino al fischio finale per il Pineto in arrivo un altro test quello ufficiale di Coppa Italia di dopodomani a Giulianova poi sarà a campionato con il debutto a Francavilla il Terramo invece aspetta di conoscere il suo di avversario e tutto il cammino del campionato accadrà domani con il sorteggio del calendario a Roma nel frattempo il presidente Luciano Campitelli annuncia che appronterà la nuova fideiussione ma sull'argomento si toglie qualche sassolino e parla anche dei giocatori fuori rosa Presidente facciamo un bilancio di questa chiusura del mercato che squadra ne è venuta fuori sia dal punto di vista del budget se è stato rispettato e se è soddisfatto dal punto di vista dei giocatori che sono arrivati dal punto di vista del budget se avessimo potuto dare a qualche squadra due giocatori noi avremmo più che rispettato il budget parliamo di FRT che secondo me potevano sicuramente andare a giocare e non oggi stare in tribuna perché loro non fanno parte della rosa perché sono fuori lista ci è dispiaciuto molto perché loro innanzitutto non possono giocare e poi anche per noi perché quel piccolo budget ci può dare la possibilità di fare un acquisto che noi pensavamo di fare qualche giorno fa è uscita la grana fedegliussione quella della Finward che la Covisoc prima aveva dato l'ok sulla stessa e poi la FIGC ha detto invece che non è valida la Teramo Calcio si è messa in regola già con i termini della federazione oppure lo farà a breve? ma la Teramo Calcio lo deve fare sicuramente per potersi iscrivere però il problema ne è un altro il problema oggi è che con queste incertezze non si può andare avanti lì se ad una società non dico il Teramo tu dici e non sei iscritto e poi quella società non ha la forza di avere la fiduzione può anche dire io mi ritiro oppure fa altre scelte ma quando una società spende 3 milioni di euro si impegna fa tutto mette in accendi i motori e poi ha una settimana o una settimana e mezza prima che si cominci il campionato si fa quello che hanno fatto credo che qui dobbiamo assolutamente noi capire vedere se questo mondo è ancora fatto per noi è tutto per quanto riguarda il TG6 io vi ringrazio per averci seguito vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili on demand sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti Grazie a tutti.